spaghetti al barracuda mediterraneo inizia pulendolo dalle squame con la lama di un coltello e poi si inizia a togliere le interiori e la testa dopo va sfilettato le teste si tengono da parte togli anche tutte le rische e le parti non edibili dopodiché prendi tutti gli scarti ad eccezione dell'interiore e ci fai un fumetto di pesce per il fumetto di pesce ti serve un pezzetto di carota sedano cipolla e dei gambi di prezzemolo metti tutto a bollire in pochissima acqua la polpa di pesce la fai a pezzettini piccoli poi triti del prezzemolo un peperoncino e l'aglio tagli a metà dei pomodorini gialli in padella fuoco medio olio extravergine di oliva aggiungo aglio e peperoncino tritati aggiungo la polpa del pesce tagliata mescolo goccio di vino bianco che fare sfumare aggiungo i pomodorini filtro il fumetto di pesce gambi di prezzemolo aggiungo un po di fumetto di pesce quando i pomodorini iniziano ad appassire il sugo si ritira togliere i gambi di prezzemolo a quello che avanza aggiungo acqua per bollire la pasta calo la pasta la metto integrale aggiungi il prezzemolo tritato butta la pasta conservando l'acqua di cottura che potrà esserti utile mestolo di acqua di cottura e salta impiattare un'altra spolverata di prezzemolo e mangiare se ti è piaciuta la mia ricetta seguimi per altre